Allora, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti, grazie, 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 aspettate, poi magari... ok, no, va bene. Allora, grazie, io abbiamo fatto semplicemente un riflesso che suoneremo e ora cominciamo, praticamente avete visto che il programma sarà dedicato e tutto altro andate, ok? Quindi eseguiremo nove brani e volta per volta vi dirò il titolo e eseguiremo i brani. Grazie ancora, buon ascolto a tutti e a dopo. Il primo brano è La Sperissima. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.